La Commissione sull'immigrazione del Consiglio d'Europa accende i riflettori sulla situazione dei 40.000 cinesi residenti a Prato e lo fa con una visita del suo presidente, il francese Thierry Mariani, che si è spinto fino a Firenze per un incontro di poco più di mezz'ora con il governatore della Toscana Enrico Rossi. Mariani ha per prima cosa evidenziato come l'economia cinese, che impiega buona parte della forza lavoro nel settore tessile, abbia rappresentato un potente antidoto alla crisi, ma ha anche sottolineato come per l'Unione Europea il problema principale sia rappresentato dalla sicurezza dei lavoratori. Dopo la tragedia di Firenze, la regione ha giustamente provveduto con l'assunzione di alcuni controllori. Inoltre, il Comune continua a offrire servizi sociali sul territorio e quindi credo che in questo modo si riuscirà a risolvere il problema. Secondo il governatore Rossi, invece, l'emergenza pratese è ben lungi dall'essere risolta, per questo è tornato a chiedere con forza un maggior impegno da parte del governo. C'è un rigo sotto il quale in Toscana non si può andare, che bisogna che se lo ficchino in testa gli imprenditori cinesi, ma anche coloro che affittano i capannoni, che solitamente sono pratesi. E cioè che in questi ambienti, in questi laboratori, si deve lavorare in sicurezza e che si deve vivere e dormire da un'altra parte altrettanto in sicurezza. Per questo Rossi si è detto pronto a raddoppiare sia il numero di ispettori presenti su Prato, che oggi sono 70, sia quello dei vigili urbani, per un maggior controllo del territorio. È durato circa due ore l'incontro a Palazzo Strozzi Sacrate a Firenze, richiesto al governatore della regione da un gruppo di lavoratori della Siram, azienda che si occupa degli impianti di condizionamento e riscaldamento negli stabili di molte ASL toscane. In carico che però è in scadenza in diverse realtà, una su tutte, Pistoia, dove i dipendenti sono stati sì riassorbiti dalla cooperativa che ha vinto l'appalto e che ha preso il posto della Siram, ma con salari ridotti di 500 euro al mese. La stessa situazione rischia ora di riproporsi a Firenze e Prato. Per questo i lavoratori, che hanno scioperato per tutta la giornata, hanno chiesto che venga convocato un nuovo tavolo a fine agosto con i direttori delle ASL interessate, i rappresentanti della regione e l'azienda subentrante. Non solo si troverà una soluzione per il passaggio di tutti i lavoratori, quindi per la difesa dei livelli occupazionali, ma anche per l'aspetto retributivo, perché la perdita di 500 euro mensili è inaccettabile. Ci pare che le istituzioni abbiano capito e si siano accorate del problema, quindi siamo fiduciosi. Il nodo da sciogliere rimane però quello dei costi. La Siram, che in tutta la Toscana conta circa 100 dipendenti, dal 14 agosto perderà l'appalto con l'ASL di Pistoia, dal 31 settembre quello con Firenze e da fine anno il contratto con l'ASL Pratese. Il tutto a causa della spending review interna, le cui regole rischiano di rendere impraticabile una ricontrattazione degli stipendi dei lavoratori, che verranno riassorbiti da chi prenderà il posto della Siram. Un tavolo di crisi per gestire le difficoltà, ma anche per controllare la qualità dei servizi offerti dalle scuole paritarie della Toscana. A proporlo è la FLCCGL con una lettera inviata agli enti competenti. Un problema, spiegano dal sindacato, che in Toscana riguarda oltre 600 scuole per un servizio rivolto a oltre 5.000 alunni. Un numero che cala, dato il quadro di crisi economica generale, in particolare nell'ambito della scuola che non è dell'obbligo. E finiscono anche per chiudere alcune strutture scolastiche dedicate alla prima infanzia, tre gli asili nido chiusi negli ultimi anni nella sola provincia di Firenze. Se non c'è un intervento forte dello Stato dal punto di vista delle strutture, cioè dei posti disponibili, almeno ci deve essere una tutela di quelle strutture che al momento offrono una forma sussidiaria di servizio. La necessità, sottolinea il sindacato, non è solo quella di sostenere gli investimenti nel settore, ma anche di evitare i finanziamenti a pioggia, controllando la qualità del servizio offerto dalle strutture e garantendo la tutela dei diritti del personale coinvolto. Dopo aver messo a gara i servizi di stampa e consegna delle cartelle esattoriali, assicurando rispetto alla gestione di poste un risparmio di 40 milioni di euro ai comuni, Lanci Toscana ha deciso di affidare a un soggetto unico anche il servizio di assistenza in materia di riscossione fiscale. In pratica, chi vincerà la gara che scadrà il 15 settembre affiancherà il personale dei 190 municipi che hanno aderito al progetto nella scrittura delle cartelle e nella gestione di sportelli e call center, il tutto con un risparmio previsto in tre anni di 15 milioni di euro. Si passa da un concetto di agio a un concetto di rimborso, perché noi diciamo a un privato fai esattamente questa attività, non gli diciamo quanto più sei bravo tanto più riscuoterai, che è il concetto dell'agio, ma gli diciamo tu esegui esattamente questa attività e io ti rimborso per questa attività. Grazie al ricorso al soggetto unico per la consulenza, poi i comuni prevedono un incremento anche del totale della riscossione rispetto alla gestione di Equitalia, che ora riesce a recuperare meno del 15% di quanto dovuto per multe o contravvenzioni non pagate. Questo permetterà poi ai comuni di gestire la riscossione con maggiore elasticità. Non è che ci sarà chi va nell'ufficio del sindaco e si fa togliere un tributo perché siamo più flessibili. Ci saranno dei regolamenti che verranno fatti dai funzionali dei comuni in base alla propria realtà e lì è la dose di flessibilità, oltre che nelle linee guida del regolamento regionale. Alla gara per la consulenza sulla riscossione e a quella per la gestione dei servizi di stampa, se ne affiancherà entro la fine dell'anno una terza per i contenziosi tributari. Nel complesso i risparmi per i comuni si aggireranno sui 60 milioni di euro ogni tre anni. Negli anni neri della crisi il commercio a Firenze ha perso quasi un miliardo di euro di fatturato, ma nel 2014 l'emorragia dovrebbe arrestarsi soprattutto grazie al turismo e comunque con una grossa differenziazione fra il capoluogo e il resto della provincia. A presentare la ricerca dell'Osservatorio Economico di Confesercenti Firenze, il presidente provinciale Nico Gronchi con l'assessore comunale allo sviluppo economico Giovanni Bettarini. Negli ultimi cinque anni le nuove aperture sono crollate del 30% e gli unici a crescere sono stati bar, ristoranti e ricettivo ex alberghiero. Bilancio in rosso invece per il settore alimentare, la moda e le agenzie di viaggio. Quest'anno la situazione appare invece stabile e buone prospettive si aprono per il 2015 grazie all'Expo e alle celebrazioni per Firenze e Capitale. Le nostre aspettative, la scommessa è tutta lì sullo sfondo, c'è un 2015 che può rappresentare a Firenze l'anno di cambiamento e di rottura con i cinque anni di crisi pesante che abbiamo alle spalle. Fermo restando che le istituzioni dovranno fare la loro parte su questioni strategiche come le infrastrutture, tranvie e aeroporto in primo piano, nonché aprire un confronto sull'urbanistica. Non possiamo relegare l'urbanistica a quanto sta accadendo in questi mesi semplicemente ad assessori uffici urbanistici, vogliamo capire e governare quanto accade e lo faremo mettendo anche lì in fila progetti e proposte per come fare gli insediamenti commerciali per esempio allo stadio, come programmare l'urbanistica fuori dal territorio della città di Firenze con un'ottica che ovviamente da ora in poi dovrà essere di città metropolitana. La Confesercenti Provinciale di Firenze in autunno si trasformerà nella Confesercenti metropolitana e imposterà le sue attività su cinque assi, credito, formazione, innovazione, progetti e servizi alle aziende. Sono Pisa, Firenze e Livorno, le realtà della Toscana in cui l'emergenza abitativa sta assumendo i caratteri più preoccupanti. Al primo posto il Pisano dove nel 2013 le richieste di sfratto con ausilio della forza pubblica 3.227 sono cresciute del 25% rispetto all'anno precedente. Segue a ruota l'area attorno a Firenze che nel 2014 sembra destinata a un nuovo primato visto che ogni giorno vengono depositati in tribunale 25 richieste di ingiunzioni di sfratto. Emergenza che secondo il sindacato Inquilini che ha raccolto questi dati, il Sunia, non potrà essere risolta dalla vendita di 1.249 case popolari annunciata dal sindaco Dario Nardella quanto piuttosto dall'impiego del Fondo Nazionale di contrasto alla morosità incolpevole. Un fondo composto da 3.800.000 di trasferimenti statali e 4.000.000 regionali e che serve a risarcire temporaneamente i proprietari per i mancati introiti dovuti agli inquilini morosi. Questi soldi però, dice il Sunia, devono arrivare in fretta nelle tasche dei cittadini. Fino all'anno scorso erano erogati con una lentezza assurda perché qui si parla di emergenza e quindi deve essere tutto molto più veloce e si parlava addirittura di un anno prima che il proprietario potesse avere il finanziamento. Chiediamo che siano tempi rapidi, veloci e che effettivamente riescano ad incidere sugli sfratti per morosità. Unica provincia in cui il numero degli sfratti nel 2013 è calato rispetto all'anno precedente e Prato. Sono diminuiti ma il perché l'anno scorso fu un anno tragicissimo, ci fu un aumento tutto esponenziale delle esecuzioni che fece risalire da Prato proprio al primo posto tra i comuni della Toscana con più sfratti per morosità. Anche qui però nel 2014 la situazione è destinata a peggiorare visto che quella di Prato è la provincia con meno case popolari di tutta la Toscana. Il 28 settembre prossimo nei locali della provincia di Firenze i sindaci e i consiglieri dei comuni dell'area attorno a Firenze saranno chiamati ad eleggere i futuri membri del Consiglio Metropolitano, l'organo di indirizzo e controllo della città metropolitana, i cui lavori partiranno dal gennaio del 2015. In vista di quella data il Ministro per gli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta, ha iniziato un tour istituzionale nelle nove città destinate a rilevare le funzioni finora in capo alle province, dai trasporti alle scuole, dalla pianificazione territoriale alla mobilità. Prima tappa, Firenze con il Ministro che è stato ricevuto nel Salone dei 500, dal Presidente della provincia Andrea Barducci, dall'assessore alla Presidenza Vittorio Bugli e dal padrone di casa Dario Nardella che è anche coordinatore nazionale dei sindaci metropolitani. Se abbiamo abolito le province è perché non vogliamo rimettere dei doppioni ma vogliamo individuare degli strumenti, come ha detto anche il Ministro, più semplici, più efficienti che partano dalle esigenze dei nostri territori e dei cittadini sui temi della promozione economica, delle politiche sociali, del lavoro, dello sviluppo economico. Tra i temi trattati nel corso dell'incontro, l'approvazione dello Statuto delle città metropolitane, il lavoro per il piano strategico e soprattutto il rafforzamento del rapporto con Roma attraverso la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie locali. Io vedo positivamente, come ha detto il Sindaco Nardella, l'introduzione dei sindaci metropolitani perché questa è veramente dare la voce ai territori, i sindaci sono coloro che si rapportano per prima, sono lo Stato sui territori. L'ultimo Consiglio regionale prima della pausa estiva ha dato il via libera a una serie di variazioni di bilancio che permetteranno, tra le altre cose alla Toscana, di ridurre i debiti contratti dalle ASL. Il Ministero del Tesoro anticiperà infatti 404 milioni di euro alle aziende ospedaliere che dovranno poi restituirli nei prossimi 30 anni ma che nel frattempo potranno essere utilizzati per pagare i fornitori. Lo scorso anno il Tesoro era stato più generoso, prestando 417 milioni alle ASL toscane e questo aveva contribuito a una riduzione dei tempi di pagamento di 30 giorni, soddisfatto in ogni caso l'assessore regionale al bilancio Vittorio Bugli che punta un'ulteriore riduzione del debito il prossimo autunno. Spererei insomma entro ottobre di fare un'ulteriore emissione, quindi in totale se arriveremo intorno al miliardo di liquidità sul sistema economico toscano e viene dal pagamento, dall'accorciamento dei tempi di pagamento in questo caso particolare da parte delle aziende sanitarie. Per il resto il provvedimento approvato dal Consiglio prevede un incremento del fondo a disposizione delle microimprese, sia quelle che vogliono investire in efficientamento energetico che quelle che si trovano in difficoltà magari perché colpite da alluvioni. Un milione di euro è stato invece destinato al fondo per l'editoria toscana in attesa della pubblicazione del bando da 3 milioni di euro che dovrebbe essere pronto entro l'anno. Ridotti infine i finanziamenti alle scuole paritarie, dal milione di euro previsto si passerà a 500 mila euro, il resto andrà a sostegno delle classi Pegaso. Nuova vita per la fontana del Fancelli, grazie al restauro costato 16 mila euro ed eseguito con i finanziamenti di Camet, club automoto d'epoca toscano e Asi Automoto Club storico italiano. La fontana risale al 1619 e si trova sotto la loggia del grano di fronte all'ingresso dei grandi uffizi nel centro di Firenze. L'opera di Chiarissimo Fancelli è ispirata alla fontana dello Sprone in Oltrarno ed è caratterizzata da un mascherone dall'aria beffarda. Un pezzo molto importante per Firenze era da dopo l'alluvione che non veniva restaurata e quindi come fiorentini amanti delle cose storiche e belle abbiamo voluto ridonare alla città questa cosa. È un monumento simbolo della città di Firenze e quindi è giusto che l'Asia attraverso i propri club federati e in prima persona oggi sia qui all'inaugurazione e prima ancora abbia contribuito al restauro dei mezzi economici. Il restauro della fontana rientra nel programma Flick Florence Care del Comune di Firenze che prevede l'intervento di organizzazioni private per adottare alcuni luoghi e monumenti simbolo della città. La manutenzione del nostro patrimonio culturale parte dalle piccole cose e allora rivedere una fontana restituita alla sua bellezza funzionante è un piccolo elemento di bellezza che insieme a molti altri contribuisce a rendere più gradevole, più accogliente il nostro centro storico. La loggia da Mercato del Grano divenne un teatro e poi un cinema. Chiuso il cinema, la struttura seicentesca è sembrata cadere nel dimenticatoio fino ad ospitare un mercatino ed un bar. Questo restauro quindi vuole essere anche un messaggio per l'attuazione del recupero dell'intero immobile. È un'estate a dir poco difficile per i piccoli e medi supermercati della Toscana. Ne sanno qualcosa i circa 140 lavoratori dei negozi il centro, chiusi dal 25 luglio in seguito al fallimento dell'azienda, che con un presidio davanti all'assessorato regionale del lavoro hanno chiesto un sostegno a seguito dell'inattesa chiusura dei punti vendita. È importante avviare le procedure per la cassa integrazione e per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, perché logicamente ci sono persone che hanno figli, che sono famiglie monoreddito, che a settembre non avranno uno stipendio. All'interno dell'assessorato i rappresentanti sindacali hanno chiesto a Gianfranco Simoncini un impegno per accelerare le procedure per la cassa integrazione straordinaria e per garantire un futuro ai lavoratori. Abbiamo chiesto un aiuto perché quando ci sarà l'asta fallimentare sui 18 negozi si evita lo spacchettamento, ma ci si aiutino a trovare un imprenditore, una catena di supermercati che possa acquisire tutti i 18 punti vendita. Richieste accolte dall'assessore che fa sapere di aver già inviato una lettera al Ministero del Lavoro per la convocazione di un tavolo, ma l'allarme si estende anche ai circa 600 lavoratori dei 29 supermercati Desper della Toscana più i 200 del magazzino Cadla, entrambi appartenenti alla società 2G, per cui i proprietari hanno chiesto il concordato preventivo. Anche su questo abbiamo rassicurato i lavoratori della volontà della regione di essere vicina a questa avvertenza e nei prossimi giorni invocheremo l'azienda per aprire un confronto con lei rispetto alle prospettive del gruppo e per capire in che modo si può garantire la prosecuzione dell'attività commerciale e ovviamente anche la tenuta occupazionale. Oltre 2.700 i posti vacanti nel corpo insegnanti della Toscana, mentre sono circa 1.800 le assunzioni previste. Il resto sarà coperto dalle circa 5.000 supplenze che ogni anno vengono regolarmente assegnate. Un controsenso, secondo la FLCCGL, che denuncia i sistematici ritardi nelle assunzioni degli insegnanti, nonché la continua precarizzazione di una categoria a fronte delle necessità degli istituti scolastici. Dovremmo superare tutte queste forme di fatto di falsa gestione, buona gestione del bilancio e in realtà risparmiare davvero i soldi stabilizzando questi organici. Questa è la cosa che chiediamo, superamento dell'organico di diritto e del fatto organico funzionale. Questo è quello di cui hanno bisogno le scuole. A mancare non sono solo gli insegnanti, denuncia il sindacato. 104 gli istituti che dal prossimo anno saranno senza dirigente scolastico, mentre sono 110 i presidi che attendono ancora la sentenza del Consiglio di Stato sul concorso contestato. 80 i posti vacanti dei direttori dei servizi generali con funzione di segreteria. L'appello è che vengano accelerate le procedure perché le attività scolastiche non debbano subire ritardi dal primo suono della campanella, il 15 settembre. Vetrina Toscana, ovvero creatività e tradizione, cultura e gastronomia, entra nella programmazione di agosto con decine di eventi in tutte le province, promosso da Regione Union Camere per valorizzare la rete di ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti tipici del territorio. Vetrina Toscana propone cene e degustazioni ambientati in musei, castelli, quartieri storici, siti archeologici e parchi. In programma in questi giorni il Festival dei Mirtilli della Betone dal primo al 3 agosto con menù a base di mirtilli dall'antipasto al dolce. Il primo il 5 agosto a Ponte d'Era, la peristrada, mentre il 3 agosto a Livorno effetto battello nello storico quartiere della Venezia. Il 4 a Marina di Petrasanta e il caffè della Versigliana ospita, come ogni lunedì, appuntamenti enogastronomici condotti da Claudio Sottili. Il 6 agosto a Marina di Massa il Centro Commerciale Naturale lancia l'evento in Vespa sulla Via Francigena, mentre ad Arezzo, a Villa Severi, sapori in villa. La Commissione sull'immigrazione del Consiglio d'Europa accende i riflettori sulla situazione dei 40.000 cinesi residenti a Prato e lo fa con una visita del suo presidente, il francese Thierry Mariani, che si è spinto fino a Firenze per un incontro di poco più di mezz'ora con il governatore della Toscana Enrico Rossi. Mariani ha per prima cosa evidenziato come l'economia cinese, che impiega buona parte della forza lavoro nel settore tessile, abbia rappresentato un potente antidoto alla crisi, ma ha anche sottolineato come per l'Unione Europea il problema principale sia rappresentato dalla sicurezza dei lavoratori. Dopo la tragedia di Firenze, la regione ha giustamente provveduto con l'assunzione di alcuni controllori. Inoltre, il Comune continua a offrire servizi sociali sul territorio e quindi credo che in questo modo si riuscirà a risolvere il problema. Secondo il governatore Rossi, invece, l'emergenza pratese è ben lungi dall'essere risolta, per questo è tornato a chiedere con forza un maggior impegno da parte del governo. C'è un rigo sotto il quale in Toscana non si può andare, che bisogna che se lo ficchino in testa gli imprenditori cinesi, ma anche coloro che affittano i capannoni, che solitamente sono pratesi. E cioè che in questi ambienti, in questi laboratori, si deve lavorare in sicurezza e che si deve vivere e dormire da un'altra parte altrettanto in sicurezza. Per questo Rossi si è detto pronto a raddoppiare sia il numero di ispettori presenti su Prato, che oggi sono 70, sia quello dei vigili urbani per un maggiore controllo del territorio. È durato circa due ore l'incontro a Palazzo Strozzi Sacrate a Firenze, richiesto al governatore della regione da un gruppo di lavoratori della Siram, azienda che si occupa degli impianti di condizionamento e riscaldamento negli stabili di molte ASL toscane. In carico che però è in scadenza in diverse realtà, una su tutte, Pistoia, dove i dipendenti sono stati sì riassorbiti dalla cooperativa che ha vinto l'appalto e che ha preso il posto della Siram, ma con salari ridotti di 500 euro al mese. La stessa situazione rischia ora di riproporsi a Firenze e Prato. Per questo i lavoratori, che hanno scioperato per tutta la giornata, hanno chiesto che venga convocato un nuovo tavolo a fine agosto con i direttori delle ASL interessate, i rappresentanti della regione e l'azienda subentrante. Non solo si troverà una soluzione per il passaggio di tutti i lavoratori, quindi per la difesa dei livelli occupazionali, ma anche per l'aspetto retributivo, perché la perdita di 500 euro mensili è inaccettabile. Ci pare che le istituzioni abbiano capito e si siano accorate del problema, quindi siamo fiduciosi. Il nodo da sciogliere rimane però quello dei costi. La Siram, che in tutta la Toscana conta circa 100 dipendenti, dal 14 agosto perderà l'appalto con l'ASL di Pistoia, dal 31 settembre quello con Firenze, e da fine anno il contratto con l'ASL Pratese. Il tutto a causa della spending review interna, le cui regole rischiano di rendere impraticabile una ricontrattazione degli stipendi dei lavoratori, che verranno riassorbiti da chi prenderà il posto della Siram. Un tavolo di crisi per gestire le difficoltà, ma anche per controllare la qualità dei servizi offerti dalle scuole paritarie della Toscana. A proporlo è la FLCCGL, con una lettera inviata agli enti competenti. Un problema, spiegano dal sindacato, che in Toscana riguarda oltre 600 scuole per un servizio rivolto a oltre 5.000 alunni. Un numero che cala, dato il quadro di crisi economica generale, in particolare nell'ambito della scuola che non è dell'obbligo. E finiscono anche per chiudere alcune strutture scolastiche dedicate alla prima infanzia, tre gli asili nido chiusi negli ultimi anni nella sola provincia di Firenze. Se non c'è un intervento forte dello Stato dal punto di vista delle strutture, cioè dei posti disponibili, almeno ci deve essere una tutela di quelle strutture che al momento offrono una forma sussidiaria di servizio. La necessità, sottolinea il sindacato, non è solo quella di sostenere gli investimenti nel settore, ma anche di evitare i finanziamenti a pioggia, controllando la qualità del servizio offerto dalle strutture e garantendo la tutela dei diritti del personale coinvolto. Dopo aver messo a gara i servizi di stampa e consegna delle cartelle esattoriali, assicurando rispetto alla gestione di poste un risparmio di 40 milioni di euro ai comuni, Lanci Toscana ha deciso di affidare a un soggetto unico anche il servizio di assistenza in materia di riscossione fiscale. In pratica, chi vincerà la gara che scadrà il 15 settembre affiancherà il personale dei 190 municipi che hanno aderito al progetto nella scrittura delle cartelle e nella gestione di sportelli e call center, il tutto con un risparmio previsto in tre anni di 15 milioni di euro. Si passa da un concetto di agio a un concetto di rimborso, perché noi, diciamo a un privato, fai esattamente questa attività. Non gli diciamo quanto più sei bravo, tanto più riscuoterai, che è il concetto dell'agio, ma gli diciamo tu esegui esattamente questa attività e io ti rimborso per questa attività. Grazie al ricorso al soggetto unico per la consulenza, poi i comuni prevedono un incremento anche del totale della riscossione rispetto alla gestione di Equitalia, che ora riesce a recuperare meno del 15% di quanto dovuto per multe o contravvenzioni non pagate. Questo permetterà poi ai comuni di gestire la riscossione con maggiore elasticità. Non è che ci sarà chi va nell'ufficio del sindaco e si fa a togliere un tributo perché siamo più flessibili. Ci saranno dei regolamenti che verranno fatti dai funzionali dei comuni in base alla propria realtà e lì è la dose di flessibilità, oltre che nelle linee guida del regolamento regionale. Alla gara per la consulenza sulla riscossione e a quella per la gestione dei servizi di stampa, se ne affiancherà entro la fine dell'anno una terza per i contenziosi tributari. Nel complesso i risparmi per i comuni si aggireranno sui 60 milioni di euro ogni tre anni. Negli anni neri della crisi il commercio a Firenze ha perso quasi un miliardo di euro di fatturato, ma nel 2014 l'emorragia dovrebbe arrestarsi soprattutto grazie al turismo e comunque con una grossa differenziazione fra il capoluogo e il resto della provincia. A presentare la ricerca dell'osservatorio economico di Confesercenti Firenze il presidente provinciale Nico Gronchi con l'assessore comunale allo sviluppo economico Giovanni Bettarini. Negli ultimi cinque anni le nuove aperture sono crollate del 30% e gli unici a crescere sono stati bar, ristoranti e ricettivo ex alberghiero. Bilancio il rosso invece per il settore alimentare, la moda e le agenzie di viaggio. Quest'anno la situazione appare invece stabile e buone prospettive si aprono per il 2015 grazie all'Expo e alle celebrazioni per Firenze Capitale. Le nostre aspettative, la scommessa è tutta lì sullo sfondo, c'è un 2015 che può rappresentare a Firenze l'anno di cambiamento e di rottura con i cinque anni di crisi pesante che abbiamo alle spalle. Fermo restando che le istituzioni dovranno fare la loro parte su questioni strategiche come le infrastrutture, tranvie e aeroporto in primo piano, nonché aprire un confronto sull'urbanistica. Non possiamo relegare l'urbanistica a quanto sta accadendo in questi mesi semplicemente ad assessori uffici urbanistici, vogliamo capire e governare quanto accade e lo faremo mettendo anche lì in fila progetti e proposte per come fare gli insediamenti commerciali per esempio allo stadio, come programmare l'urbanistica fuori dal territorio della città di Firenze con un'ottica che ovviamente da ora in poi dovrà essere di città metropolitana. La Confesercenti Provinciale di Firenze in autunno si trasformerà nella Confesercenti Metropolitana e imposterà le sue attività su cinque assi, credito, formazione, innovazione, progetti e servizi alle aziende. Grazie a tutti.